Devo essere sincero, all'inizio non ci volevo proprio credere, ma poi le telefonate sono diventate due, poi tre, poi quattro e così ho deciso di andarmi a rendere conto della situazione con i miei stessi occhi e ho potuto constatare che quello che dicevano i clienti era effettivamente vero. Prevalentemente su Edge, ma anche sui Chromium e su Chrome stesso, c'è la comparsa di oggetti misteriosi sotto forma di schede misteriose che si aprono senza apparente motivo. E allora andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta e soprattutto come evitare questa cosa in modo che non succeda anche a te. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Quello che può succederti esattamente come a me è che mentre stai navigando su un qualsiasi sito, magari come faccio io alla ricerca di ricette per fare una buonissima pasta al forno, ti si apra improvvisamente una scheda come questa che sono riuscito fortunatamente a catturare su questa macchina virtuale che presenta lo stesso problema. L'indirizzo a cui riporta è questo qui HTTPS No Startup Windows Edge Reporting Task. E poi la scheda recita questo. Ups, i nostri servizi non sono disponibili in questo momento. La scheda viene chiusa ma tende a riaprirsi più e più volte fino a diventare un fenomeno davvero fastidioso. Ma a che cosa è dovuto tutto questo? E la risposta l'ho trovata grazie alla rivista di settore che si chiama Punto Informatico che titola Chrome e Edge. Come risolvere il bug della scheda fantasma. L'articolo infatti ci informa che da circa una settimana molti utenti di Chrome ed Edge hanno riscontrato un bug piuttosto strano. Ogni volta che aprono il browser si apre automaticamente una scheda che cerca di reindirizzarli a questo URL. Se si prova a visitare questo indirizzo ci si trova di fronte ad una sfilza di thread sui vari forum di supporto. E infatti ho provato a farlo anch'io ed effettivamente sono stato catapultato sul forum della stessa Microsoft che a quanto pare brancola nel buio. Infatti il nostro amico Microsoft Agent HAN ci dice che è possibile fare una serie di operazioni per cercare di risolvere il problema. Insomma come al solito non lo sanno manco loro. Però in realtà Punto Informatico stesso ci riporta una soluzione che sembra essere efficace nel 100% dei casi. Quindi se anche tu hai questo problema andiamo a vedere come risolverlo. E se invece non ce l'hai andiamo a vedere come evitarlo prima ancora che ti si presenti. Casualmente da poco abbiamo imparato ad aprire l'utilità di pianificazione e ad utilizzarla. E se per caso ti fossi perso il video tranquillo perché te lo lascio linkato qui in alto. Quello che bisogna fare come sappiamo è andare in basso sulla lente di ricerca oppure sulla barra di ricerca cliccarci su e digitare utilità di pianificazione. Apriamo questa icona qui e nell'utilità di pianificazione stessa andremo a cliccare sul lato sinistro su libreria utilità di pianificazione. Dopodiché dovremo andare ad individuare nel caso di Edge questa voce qui quella che dice Microsoft Edge reporting task machine. Nel caso di Chroma invece la voce relativa potrebbe essere sia Google Chrome reporting task machine che semplicemente Google reporting task machine. In ogni caso dovremo trovare tutte quante le voci che riportano la dicitura reporting task machine cliccarci su con il pulsante destro del mouse e scegliere questa voce qui quella che recita eliminazione. Clicchiamoci su e ci verrà chiesto se vorremmo eliminare questa attività. Possiamo tranquillamente confermare di voler eliminare questa attività perché alla fine dei conti si tratta solo di un bug ed è dannosa mentre non dovremo andare assolutamente a toccare le altre voci quelle che riguardano gli aggiornamenti. Quindi eliminiamo questa qui e lasciamo stare le voci che riportano la dicitura update perché sono quelle relative all'aggiornamento di Edge di Chroma e di tutti quanti gli altri Chromium. Tutto qui. Una cosa ad onor del vero va detta e cioè che tutti quanti i clienti che mi hanno riportato questo bug utilizzavano solo ed esclusivamente Edge ed io stesso ho potuto riscontrarlo solamente su questo browser. Tuttavia le riviste di settore riportano l'indicazione che il fenomeno si verifica anche su Chrome e su tutti quanti gli altri Chromium ma non ho potuto verificarlo di persona. E detto questo siamo arrivati al termine anche di questo video che come sempre non può dirsi completo se non ti ho ringraziato per avermi fatto compagnia, salutato e dato appuntamento. Alla prossima!